Benvenuti ragazzi, sono James di Games E io sono Franky364Games E scusate se si sente questa pistola che sta... Ma c'è... Il piccolo monello Monello Allora, siamo su Mincerot Minecraft Con una texture pack Che ora vi faremo vedere Allora, c'è un bonus Una texture bonus Quella Una bella proprio Bellissimo, vi farò vedere Siamo sulla Snapchat 815 W51P Qua si vede raga Non c'è bisogno neanche che ve lo dici E poi ci sarà anche la... C'è la doppia mano anche Che non ci sa perché Ma non riusciamo a usarla Per attaccare Ma soltanto per bere, piazzare Ok Cagare Aspettate, allora Prima di tutto vi devo dire anche Che questa sarà una serie normale Solo che sarà una serie Dove io comando questo Il... Il mouse In un video lui farà questo Il mouse In un altro video sarò io A fare il mouse Allora, lui farà il mouse E io farò I tasti Le frecce Con F Con F mettiamola a doppia mano E ve la farò vedere Giocatore singolo Che, giocatore singolo E... C'ho un... Un pottino di... Di tanti livelli In patate Allora, chiamiamolo... Gia... Chi... L'aspetta Gia... Chi... E... Fran... Ci... Franci... 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 La serie Land Land si scrive Vabbè, land, land, vabbè Beh, altre opzioni Ragazzi, mi perlora una pazzia Estrema Estrema? No, no Eh, facciamola estrema, raga No Perché se poi... Già, lo sai che io perdo subito Vabbè Per lui metteremo Sopravvivenza Saremo una normalissima Ma Perché gli fatti? Potevo mettere in graccista Vabbè Cacca pupù Super sopravvivenza Sopravvivenza E la patata Sopravvivenza E che la... Abbiamo ricevuto questi Con G24 pacchetti Non scherciamo In ogni pacchetto ci sono 20 quattro barrette Una cosa Ragazzi Mettete un bollicione A start the killer E vi farò Mangiare Avere una Due Perché sono un sacco Zero Tanto non fa male mai a nessuno Eh, infatti Si vede Io sono diventata così Allora, vabbè Che vuole essere zitto Perché c'è E' un bollicione Un bollicione Che innessione Che innessione Che carino Che stelle di me Oh, ma No, non mi piace se è così Prendi le pecore Così Che devo uccidere le pecore Oh, quante sono? Due letti Ci possiamo fare Tanto uno Quando uno L'iserva Mamma Lì C'è Un Uccidere Muore 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 Stronza Muore Aaaaa Qual era? Mi stai vogliono Andare tutta via Ok, vai Allora E' una texture Mi sono scordata di dirvelo Che abbiamo una texture Ma dai Non si vede Ma dai Non si vede Che c'è la texture Muori Devi morire Devi morire Devi morire Devi morire Raga Non muore Fermati Fermati Oh, vedi che devo ucciderla Perché Ti vuoi fermare Un minuto Io dicevo a te Come vedete Se mettiamo Se mettiamo Un oggetto Tipo la terra E premiamo F Premi tasto destro Che bella Nem me la fa Ma cosa dai E' così gigante Oh, piazza Piazza Rompi Raga E' la texture Che la fa così Oh Raga Vediamo Vediamo se la carne E' gigante Come La carne Buttala 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 E' gigante I semi Vai Butta Pure Che figata Vabbè Altre due pecore mancano Altre due Ok Io ne avevo ammazzato due Una Due Una ancora non era vostra Io mi ricordo che l'avevo ucciso Vabbè Perché se ne staccato la testa Non c'è Un oggetto E' semplicemente il caos Ok Va bene Metti qua Facciamo il late Anzi no il late Mangia Vai Mangiamo Boh E vai Andiamo a prendere un poco di Poco fiero Allora Tu cammini Ti raccomi Io ti porto da qualche parte Di Students Bus guarda qua però calma cosa sarebbe questa cosa? andiamo ok non mi piace però questa è troppo scura cosa? ah questa è la foresta di lei a scuro è l'ammercosa vedi che è il mappè stimpati vabbè vabbè scusatemi magno ok oh il legno vediamo no lo faccio io no no ok se lo dico io quando ti devi muovere vai 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 e salta ok fermo ahahah 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 la 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 questo è un bimbo a chilo a chilo magna maniamo di qua maniamo di qua guardate la texture di nuovo baggata va butta oh mio bene ok ragazzi allora abbiamo fatto la casa è un castello l'ho fatta io l'ho fatta io ha fatta lui è gigantesca così gigantesca abbiamo messo 5 giorni ci abbiamo messo 5 secondi a farla veramente non abbiamo città lo dovete vedere yeee questo è il nostro castello a parte le scherzi non è questa la casa non che la mia ma però questo potrebbe essere benissimo aspetta un attimo un attimo un attimo dammi un attimo dammi per migliorare bisogna fare sempre le cose giuste ecco prima dobbiamo vedere una cosa non c'abbiamo legno perfetto c'è bisogno che la mettiamo con la mano ragazzi ma che cavolo sta succedendo iiii ma ti fai un attimo manca la cosa abbiamo fatto male questo eeeh no eeeh ti chiederei cosa sto facendo eh si mi chiedono che cosa stai facendo lo stai vai dai su oooo ah ma che stai facendo una tomba nooo il servizio dei gelati si ragazzi è pazzo vabbè ora dato che abbiamo fatto questa cosa quindi se vi è piaciuto mettete un commento, iscrivete, spoliciate e ci vediamo scherzavo ovviamente aspettate scherzavo non chiudo ora vi devo fare vedere una cosa aspetta che ve la facciamo vedere ok ragazzi siamo tornati con una nuova con una nuova texture come vedete abbiamo nel frattempo fatto una spada come vedete questa è acqua però se c'è la lava è uguale non possiamo mai sapere se acqua usa per fortuna si può lanciare la cosa e vedere se cosa usa parlando lui sto facendo una cosa importante un letto mi stuprano mi ammazzano infatti perché se dormi ti salvo dai bello perché noi siamo bellissimi giusto si danno dai dormi non voglio essere scoppiato da creeper signor letto non voglio essere scoppiato da creeper non voglio essere scoppiato da creeper franci 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 perché non perché parla sempre io parlo e lui parla si you are the sexy vabbè ce la facciamo qua la casa però ce la facciamo piccola perché ho intenzione di fare un castello io guarda ti faccio vedere la cosa che ho inventato dai 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 no io già ho in mente qualcosa da fare un attimo questa è arte raga questa è arte immaginate che cos'è un cosa ovviamente è un aereo si no è un aereo se qualcuno sa fare le sculture sa che cosa sto facendo